Ciao a tutti ragazzi, la quale è già venuta nuova e bentornati sul mio canale perché sono visti un video e stiamo usando solo iPad qui dato che devo registrare per le vacanze e quindi non posso fare con la telecamera, con la nuova quindi siamo in 720p e il video sarà massimo lì 15 minuti, riprendiamo qui dove ce l'avevano proprio lasciati immediatamente con... taglia, taglia, taglia con la battaglia che stava cominciando con il dialogo di Robin cioè che aveva contato un budista Robin che non c'era Robin, però c'era quello che parlava di Robin va bene mamma mia mamma mia che cattiveria Zoron grande ricordo che nella scorsa parte era molto ruffi quindi siamo messi decisamente male taglia, taglia, cos'è che devo tagliare? eh però cos'è? io poi non tornerei da qua, eh cosa vuole? vuole cose curative? eh sì, mamma mia per un altro davanti così le double kill guarda che lui è insieme a me guardatemi tutto guardia, ho detto guardia, ho detto guardia sto premendo sto premendo come un disperato caspita ragazzi caspita vai Frankie controattacca, fai tutto quello che vuoi è bigliato questo peperone qua sto già morendo pure lui non so che fare ragazzi beccati questo mi fa male lo stesso proteggiti porca miseria ragazzi non c'è pace non c'è pace ovviamente ci riproviamo sì, ci riproviamo dell'ultima cosa spero mi dia tutto in vita allora così così è meglio va bene, noi ripartiamo da qui va bene, va bene qui non si può fare rocata comunque va bene ripartiamo da qui ma almeno così rivedete il dialogo anzi no, lo salto anche troppo che ora il dialogo era qui praticamente con quello lì me l'avete visto nella scorsa parte quindi possiamo assolutamente saltarlo andiamo quindi a ricombattere torniamo appunto all'inizio anche saltiamo anche qua torniamo all'inizio della parte praticamente l'altra volta però partiamo anche con Rufy che l'altra volta era morta essere certo un degno alleato è che sono troppi proprio ti taccano da tutte le parti io continuo a fare così che almeno mi devia anche gli altri allo stesso tempo non subisco danni o ne subisco comunque poco e ammazzo gli altri dunque sei da solo la buona occasione è prenderli da soli appunto mamma mia mi ha sferato quello lì ma gli altri coperi di squadra mentre non li controllo fanno qualcosa o li rispondono solo perché non vedo mai qualcuno che viene ucciso da un coperano di squadra coperano da sparo tacchete e taccheta stiamo andando meglio mi sembra grazie a Rufy ovviamente e lo schizo e lo prende voi sapete dove tacchete sono forti questi qui di Rufy sono forti questi qui di Rufy vediamo sicuro tacchete e tacchete mamma mia vai vai no no cazzo aspettiamo le foto ho metto il livello di Frankie vai ho fatto questa attacca in modo tale che adesso sono tutti più deboli mi sembra decisamente meglio di prima è l'ultimo crano ed è sempre lui ed è sempre Rufy odio i miei Kiki ragazzi è ufficiale era successiva ma ma che cos'è ma che cos'è ma che cos'è vi prego no no grazie non riprovare più è un picchia duro questo è un picchia duro questo ragazzi ma che botta da robbia già vabbè adesso ci siamo ok dice prima di morire è un picchia duro dice che se ha perduto una sfida buona cos'è bro è andata bene contro i boss non ricordo oddio che cos'è ma 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 spiegatemi ma dai ma almeno datemi uno schivo o qualcosa eccolo schivato senti questo schivato 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 mamma che botta non solo botta mi cado pure è imbattibile ah dimeno un po' dopo possibile la verità è assolutamente impossibile schivato schivato questa non l'ho schivata 9-0 controattacca così come tu sai fare cosa fa? oddio eh guarda dimmi un po' dopo che fai? che succede? eh ma io? si? puoi? si è bene lo fai un... vabbè non dico neanche cosa lo stavo per dire e vabbè ma io faccio guardia cos'è la sua storia? si ma io mi schiaccio non ho parole ragazzi ma io mi... spero che si veda che mi protegga mamma mia ma vedete che... si ciao è troppo forte ancora ma è impossibile ragazzi vi dico che è impossibile l'altro che devo ancora farci se continuavo a fare guardia ma qua si 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 se magari mi fai vedere la visione di uno ragazzi ragazzi niente da fare è veramente troppo forte a questo punto come detto io c'è da fare o riprovo o ritirati e il riprovo penso ci faccio riprovare circa da qui nel senso circa per riprovare appunto questa battaglia e dato che sono con le ipad quindi non è non posso andare oltre 15 minuti io direi di chiudere qui la parte quindi mi raccomando continuate a seguirmi mettete un bel mi piace scrivetevi e commentate mettete un mi piace anche la pagina facebook scrivetevi al secondo canale mi raccomando e ci vediamo non so fra quanto ma comunque con il prossimo gameplay di one piece e diciamo da quando avrò sconfitto il boss quindi ci vediamo da là ciao a tutti ragazzi al prossimo video